Buongiorno Archiderio di Murosoro, Archiderio di Medicina per l'Anima. Allora oggi facciamo l'offerta all'offerta di inizio marzo. Sono un po' di piante, un assortimento di piante che sono in boccia in questo momento, di piante bibri un po' particolari, anche qualche botanica. Allora cominciamo. La prima è la BC Will Boyle, la celebre Brassola Odorosa per Cateria Volantiaca. Sono piante molto grandi, costano 30 euro con un ramo così e 36 euro con 2-3 rami come questo, vedete. Poi abbiamo la Brassia Toscana, vengono 28 euro, 2-3 rami. Poi questa qui è la Brassio Aurelio Catreio Mi Orange, in primavera fa un sacco di questi fiori anche di lunga durata, costa 28 euro. La Burragea Resta, costa 24 euro. Ce n'è anche qualcuna grossa grossa che costa 28 euro. Poi abbiamo la Biallara Catrin, questa qui. È un libido di Brassia, vedete, è bellissimo perché è dei fiori che sono veramente stupendi. Questo costa 28 euro. Poi c'è questa bellissima, la Cambia Barocco, questa qui, se l'abbiamo detta, la Cambia Barocco, che vengono 28 euro. E ce n'è qualcuna che è più grande che 20-22 con una decina di rami, ma ce n'è proprio poco. Questa è una bellissima catreia, si chiama la Catreia Anna, non so nient'altro di più. Comunque è bellissima con questa fiammata bianca e gialla, è una delle catreia monofagliate. E la Anna vengono 28 e 34, 28 con un ramo e 34 due rami. Poi sempre di Catreia c'è la Iana, questa qui, questa veramente, fanno un sacco di rami. Guardate quanti fiori che hanno. Sono piante molto grandi che si può anche dividere. E queste, la Catreia Iana, costa 38 euro. Sono piante veramente, guardate, guarda che roba. Sono tutte così, è una figura dell'altra. Poi, col Manara Andrea, c'è, ho più grande con due rami, vedete abbastanza variabile nel colore. Ho un po' più basse con 3-4 rami, così, e vengono 28 euro. Il dentro abbiamo un metistoglossum, viene dalle Filippine, questa è una specie botanica, vedete, poi quando è fiorito è bianco con lo bello blu. Vedete quanti rametti che ha ancora da fare? Sono piante molto grandi, vedete, guardate che belle. Guardate quanti boccelli che hanno, una boccellatura incredibile. Questo è il dentro questo glossum, viene a 38 euro. Dentro abbiamo un fiorardi. Allora, abbiamo, eh, questa è una che comincia a fiorire adesso, vedete? Cominciano adesso a fiorire, cominciano, eh, questo l'amo qua è ancora tutto in boccello, per esempio. Questo qui, per qualche giorno è fiorito, questo qui sta bocciolando, e questo qui, questi due, tre qua, sono tutti in boccello. Allora, di più radi abbiamo, oh, abbiamo con la misura qua, questa qui grande, grande, queste vengono 38 euro, ma ci sono anche più grandi, e queste sono piene di boccele che andranno a chiarire. E poi c'è una misura piccola che mettiamo in regalo nell'offerta. Adesso ve la faccio vedere. E poi c'è quella misura lì che viene inventata, come lì, in boccello. Allora, dove si manda? Dendrochi e pirardi, round bone dance. Questo è il ride bone dance, molti lo conoscono dall'anno scorso, è veramente notevole, adesso ho stato in boccello. Questo 32, pirardi l'abbiamo detto, white. Questo white viene, eh, due, with 26 euro. Poi ci sono i dendrochium, le collane. Allora, c'è questi che cambiano qua, questi sono esagerati, eh. Sono veramente eccezionali. Guardate quanti rami che fanno. E l'orchidia collana, vedete, fanno queste collanine di fiori. E ne fanno da tutte le parti, vedete un po' che roba. Profumate, anche loro vengono dalle Filippine. Queste vengono a 44 euro, ma sono piante veramente gigantesche. Poi c'è il gobianum, il glumaceum, questo qui viene 28. E invece sempre 38 i bianzelli. I bianzelli, solitamente la miniatura, queste sono piante molto grandi. Questi sono i boccioli, eh. Abbiamo dimenticato il dendrobio formeri, anche lui gigantesco, con una marea di boccioli. Vedete qua quanti boccioli. Questi qui sono tutti i bocciolini, vedete? I boccioli, quei rumori, quei... con lo spettacolo, vedete quanti ne ha? Ho da tutte le parti un casino di boccioli. Questi vengono a 44 euro. Sono anche loro giganteschi come piante, eh. Sono piante fuori dal comune, come queste misure qua. Poi, come ho detto, è piccaterra del Neymar. Le piccaterra del Neymar abbiamo ancora qualcuna, grande grande, come queste. che vengono a 38 euro, e poi ce n'è qualcuna più piccola che viene a 32. Questo invece è l'epidendrum floribundum, è uno che si chiama floribundum, è già tutto un programma profumato. Questo invece è l'epidendrum radicans, o i baguensi, che fanno questi ombrelli di fiori. Però, vedete? L'ombrello è così. Al centro continua a far boccioli. Man mano che perde i fiori sotto, va avanti a far boccioli in cima, d'estate fa delle panocchie grosse di fiori. È una pianta che vuole tantissima luce e d'inverno va bene anche con notti fresche. Radica, l'abbiamo detto. Milton Nidio Painter Delict, abbiamo o grandi, grandi, così, guardi, questo qui c'ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rami. Oppure ne abbiamo anche qualcuno un po' più piccolo. Allora, questo è il Painter Delict, questo è il Painter Delict, questo è un 28 e il 36, 36 è un po' più piccolo. Odontoni Alice, è un Odontoni a piccolina, un Odontoni da comodino, che vedete quanti fiori che fa? Però è bella, è veramente bella. Odontoni Alice, 28 euro, la Carla, la Carla c'è da 28 e da 36, da 28 sono così e da 36 ci sono grosse, più grandi, non è mica portati qua. Odontoni Alice, poi proprio pedrono filippinese, occhio non l'ho portato qua. Proprio pedrono filippinese, piante grandi, è quello che fa con i bocchi lunghi, l'abbiamo fatto già vedere in qualche altro video. Anche lui viene della Filippina, è un libro, cioè tra filippinese e per filippinese, per cui... Ah, poi la Colmanara Painter Yellow, c'è o questo tipo qua, o questo qua, il fiore è praticamente identico. Vedete? Il fiore è praticamente identico, però questi, guardate che bulbi che fanno. Guardate, vi faccio vedere. Guardate, guardate che bulbi giganteschi, è veramente ruotevole anche lui. Allora, la Painter Delict, no, la, la, dov'è? Ah, la Painter White Leap, no, la Painter Delict l'abbiamo detto. Painter Yellow, è una Colmanara, la Colmanara Painter Yellow, vengono 28 e 32. Poi c'è il Zico Petro, c'è ancora qualche Zico Petro Unbeate, che viene 28, e i libri di maxillare, che vengono 32, c'è questo colore qua, o più che altro quello lì. Allora, il regalo nell'offerta, vediamo il libricino dell'orchidee, è un Dendrobium Pierardi piccolo, che comincia da bocciolare, che fiorirà per un mese. Quest'anno sono un po' in ritardo, qualcuno in ritardo, questo qui è in anticipo, perché solitamente a marzo si riempiono di bocce le piene di fiori. Quest'anno questo è l'unico che è avanti così, gli altri sono ancora indietro, 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 e comunque fioriranno, fioriranno, fioriranno un po' più. Ah, vi ricordo sempre i libri, Orchidee e storie e personaggi, questa edizione, 572 pagine, l'orchidee non medicina per l'anima, che è una sintesi di quell'altro. Ok, non ci sono tante piante, per cui, quando fate l'ordine, vi diciamo se ci sono tutti o no, perché non è che ce n'è tante, di certi tipi ce n'è poche piante, ok.